E' stata presentata al pubblico presso Palazzo dei Celestini a Manfredonia la terza edizione ufficiale del secondo rally round Porta del Gargano. La competizione si terrà il 12 e 13 ottobre prossimi lungo le coste e i suggestivi percorsi panoramici tra Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Mattinata, Al cospetto degli organizzatori tra cui il presidente di Piloti Sipontini, Domenico Coccia e dei numerosi equipaggi hanno preso parte alla presentazione Alessandro Salinari, consigliere con delega allo sport del comune di Manfredonia, l'avvocato Gian Diego Gatta, consigliere regionale e l'avvocato Stefano Pecorella, presidente del Parco Nazionale del Gargano. Tra gli altri interventi inoltre Mimmo Di Molfetta, presidente provinciale CONI e Michele Ferosi, assessore alle politiche agricole forestari, programmazione e bilancio e sport del comune di Monte Sant'Angelo, moderatore della serata Matteo Perillo. La gara balida nel campionato italiano ROND è abbinata anche alla lotteria Gioca e Vinci, con in palio una Chevrolet Spark ed altri 5 fantastici premi. Tutti i dettagli della gara e della lotteria sono a disposizione sul sito www.rallyportadelgargano.it